A Pescara per un mese il parcheggio dell'area di risulta della stazione ferroviaria diventa uno spazio espositivo con i manifesti fotografici di Giancarlo Micaroni. Arte e parcheggi diventano dunque un binomio possibile e a dimostrarlo è proprio l'assessorato alla cultura del comune di Pescara. Per un mese i pannelli destinati alla pubblicità disseminati nel parcheggio dell'area di risulta stravolgeranno infatti la loro funzione e accoglieranno i manifesti fotografici di Giancarlo Micaroni. La mostra, dal titolo capolinea, resterà in allestimento fino al 7 gennaio del 2019. Nato a Pescara nel 1958, Giancarlo Micaroni da qualche anno si dedica esclusivamente alla fotografia di strada, con all'attivo numerose mostre personali. Un lavoro dedicato soprattutto alla fotografia di strada che trova nell'atmosfera straniante dell'area di risulta uno spazio simbolico particolarmente congeniale tra auto in sosta, passanti in transito, gente che arriva e gente che parte. Giancarlo Micaroni fotografa l'universo del viaggio, di tutti i viaggi possibili, spostamenti fisici e percorsi intimi dei nostri giorni, ritratte di strada, asciutti eppure emozionanti che raccolgono l'umanità senza giudicarla. La mostra è corredata anche da un micro racconto intitolato proprio Capolinea, appositamente composto dalla scrittrice Angela Capobianchi. Al nostro microfono Giovanni Di Iacovo, assessore alla cultura del comune di Pescara. La cultura deve essere diffusa in tutte le aree, in tutto il corpo della città, nelle periferie, nei quartieri in cui non si è mai fatta mostre attività culturali e anche nell'area di risulta, una zona che è un non luogo, potremmo dire, molto frequentata da tutte le persone che anche in questi giorni verranno nel centro per lo shopping, per le iniziative, perché non renderla anche quella un luogo di bellezza e di interesse. E quindi abbiamo pensato che quegli spazi normalmente utilizzati per le affissioni comunali e i negozi utilizzarli per fare delle belle mostre, una grande bella mostra di un fotografo molto importante sul tema della città, dei viaggi, proprio perché è lì in un punto, diciamo, di passaggio di transito. Penso a tutti quanti per far piacere, godersi un po' di bellezza in un posto in cui di solito c'è soltanto fretta e cose da fare.